Parliamo di letteratura, parliamo di cinema e parliamo di comics, cioè di fumetti. Cinema, letteratura, cinema e comics. Partiamo dalla letteratura. La letteratura ha una certa continuità, vedete, che è interrotta da degli spazi. Perché cosa succede? Che io leggo, quindi comprendo, ma abbiamo a che fare con dei significanti puri, cioè con delle parole che rimandano a dei significati. E quindi vuol dire che il mio immaginario in certi momenti entra in gioco. Ci sono dei buchi, questo è l'asse sintagmatico, abbiamo dei buchi qua all'interno. Perché? Perché a un certo punto io sono indotto a immaginare. Quindi leggo, comprendo, stiamo parlando ovviamente di letteratura adatta alle persone a cui ci riferiamo. Quindi guerra e pace a una persona di un certo tipo e piccolo principe a un'altra età, a un'altra tipologia. Quindi posto il principio che sia la letteratura che il cinema che i comics sono adatti al target di riferimento, quello che capita è che durante la lettura il nostro immaginario fa irruzione all'interno del linguaggio che è composto da parole che hanno un valore totalmente simbolico, sono dei significanti puri. Però riusciamo a seguire con una certa continuità. La continuità massima invece, come avete rilevato voi, è data dalla rappresentazione filmica, dal cinema. Perché? Perché non abbiamo solo dei significanti, cioè le parole che vengono pronunciate all'interno del film, ma abbiamo anche la rappresentazione di queste parole all'interno del loro ambiente, con i personaggi. Quindi il nostro immaginario fa una fatica minore a decodificare. Perché? Perché la decodifica è un'operazione che viene fatta a monte, cioè viene fatta prima della comunicazione stessa. E viene fatta dallo sceneggiatore, dal regista, dal produttore, eccetera, eccetera. Cioè è un'opera già, belle che confezionate, nella quale ci si dice, guarda, le cose stanno così. Cioè il bar in cui Jack entra è questo. Non puoi pensare che sia un altro bar. Se lo leggi, ovviamente, tu sei colpito dal fatto che Jack entra nel bar, però per quanto il bar possa essere descritto, non è assolutamente comprensibile, nello stesso modo tra persone diverse che svolgono la stessa lettura. Vediamo invece i comics. I comics, erroneamente a quello che si pensa, rappresentano il livello più difficile di decodificazione dal punto di vista del linguaggio. Perché? Non solo perché le ellissi, cioè le interruzioni, sono notevoli, sono notevoli, ma sono anche complicate dal fatto che il comics, il fumetto, implica un utilizzo di diversi linguaggi e sistemi di comunicazione all'interno di una pagina. Perché ci sono le parole, c'è una successione tipo quella filmica, ma che viene interrotta perché da una vignetta all'altra di continuità, dobbiamo interpretare i disegni, ci devono piacere tra l'altro, quindi c'è un forte gusto estetico che entra nel fumetto, mentre invece nel cinema noi possiamo avere a che fare anche con immagini non perfettamente riuscite, ma per esempio possono essere sostenute, la visione può essere sostenuta da una colonna sonora, può essere sostenuta dalla qualità degli attori, eccetera, nel fumetto no, e guardate che contrariamente a quello che si crede il fumetto è un linguaggio complicato ed è il linguaggio più complicato tra tutti. Il fumetto è consumato da persone sopra i 30 anni che hanno come minimo un diploma di scuola secondaria o superiore, normalmente sono dei laureati, molti sono medici, notari, avvocati, dentisti, persone di grande cultura e che hanno proprio il tempo, la voglia, la capacità e la pazienza di decodificare questo linguaggio. Grazie. Grazie.